Buona settimana e bentrovati all'appuntamento con le previsioni del tempo. Cominciamo con la situazione generale in Europa. Un'area di bassa pressione sta arrivando verso la Francia, portando con sé una condizione generale di maltempo. Sulle regioni italiane, situazione particolarmente critica per il Nord Italia, che potrebbe essere interessato nelle prossime ore da piogge violente e da una nuova ondata di maltempo. Provisioni per il 3 novembre 2014, caratterizzato da cielo generalmente sereno sul sud Italia e sul centro Italia, mentre su Liguria e Lombardia sono previste forti piogge con conseguenti venti di notevole intensità. Temperature comprese esattamente tra 6 e 23 gradi, con venti di direzione medio-alta variabili e mari mosso o molto mosso l'Adriatico. Grazie. Grazie.